Allora lei è interessata alla mia attività? Mi interessa. Non se ne pentirà Vittoria. Lei è disponibile tutti i giorni? Dipende. Forse anche tutti i giorni. Magnifico. Allora 50-50. Le sta bene? È d'accordo? Come? Il 50% per lei e il 50% a me. Non le sembra onesto? Certo. Posso farle una domanda? Perché lei vuol fare questa esperienza? Qualcuno ha detto che l'esperienza è il termine che ognuno di noi dà ai propri errori. E quando vuol commettere il primo errore? Domani. E quando hizo il primo errore? E quando questa? Grazie.